benvenuti su claudiumasci.com con questo video voglio iniziare una nuova rubrica fatemi sapere nei commenti se la trovate interessante e suggeritemi anche dei software da testare la rubrica riguarda, come avrete visto dal titolo, gli antivirus o meglio le suite di sicurezza andremo in ogni video a testarne una quindi vedremo come è impostata graficamente come funziona la protezione se è abbastanza potente quindi andremo a valutare tutte le suite di sicurezza ovviamente tutte quelle che mi consigliate o tutte quelle che magari mi vengono in mente e le confronteremo tra loro inizio, ho scelto per il primo video quella che utilizzo e quella che generalmente consiglio e cioè ESET Internet Security allora in realtà ESET ha sviluppato tre alternative la protezione di base, quindi solamente l'antivirus ESET Nod32 antivirus la protezione intermedia, quindi con firewall e altri strumenti che poi andremo a vedere ESET Internet Security e quella completa Smart Security Premium ovviamente sono tutte e tre a pagamento quindi prima di acquistarlo ovviamente quasi tutti gli sviluppatori permettono di testare i software ma andiamo a vedere quali sono le offerte cioè le funzioni di ognuna di queste protezioni partiamo da quelle base ovviamente abbiamo la protezione antivirus completa per tutte e tre abbiamo l'ottimizzazione delle performance per tutte e tre quindi possiamo chiudere abbiamo anche la semplicità di utilizzo questa va bene ok dai è semplice da utilizzare tutte e tre andiamo sulla protezione multipiattaforma che è disponibile solamente per Internet Security e Smart Security no, ho aperto quella successiva abbiamo Windows, Mac e Linux anche l'antivirus mentre su tablet, smartphone, Android solamente le altre due in più video ho detto che personalmente ritengo superflui gli antivirus su Android in realtà dipende dalle situazioni però in molti casi penso che possono anche non essere installati ovviamente quindi se ci interessa solamente Windows in questo momento possiamo ancora utilizzare semplicemente l'antivirus navigazione web sicura questo è un aspetto a mio avviso fondamentale qui abbiamo anche un firewall la protezione della rete di collegamento l'anti-spam la protezione bancaria e dei pagamenti la protezione anti-botnet queste non sono presenti nell'antivirus personalmente protezione bancaria e dati dei pagamenti non la utilizzo perché ci fa utilizzare un browser protetto ma se stiamo attenti se visitiamo siti sicuri non ci serve comunque assolutamente un firewall penso che sia fondamentale nella suite di sicurezza quindi consiglio sempre di utilizzare anche un firewall oltre all'antivirus quindi già qui abbiamo escluso l'antivirus andiamo avanti abbiamo il monitoraggio dei dispositivi nella rete con parental control protezione webcam la rete connessa e un sistema antifurto anche in questo caso abbiamo a disposizione su entrambi i pacchetti e non sull'antivirus ultimo disponibile solo sullo smart security è il password manager e i dati protetti quindi possiamo crittografare i supporti come chiavette usb eccetera e possiamo vedere ad esempio che il costo è è poco più alto rispetto alla internet security semplicemente 5 euro ma teniamo presente che stiamo installando ulteriori servizi quindi sono software aggiuntivi attivi sul nostro sistema e questo va a pesare sulla RAM sul sulla input output quindi sul caricamento dei file sull'hard disk quindi se non ci servono le funzionalità extra non stiamo a vedere che il costo è leggermente più alto abbiamo un pacchetto superiore semplicemente non prendiamo cose che non ci servono che magari occupano spazio inutilmente quindi in base a ciò il mio consiglio per quanto riguarda i software ESET è internet security quindi non la protezione massima ma quella avanzata quindi andiamo a scaricare la versione di prova di ESET internet security e vediamo come si comporta ho scaricato il file cercherò di tagliare i tempi morti per non perdere troppo tempo per non far venire un video troppo lungo il file di installazione è di 6 mega quindi abbiamo un file di dimensioni ridotte ma molto probabilmente intanto eseguiamo molto probabilmente anzi sicuramente perché è così andrà a scaricare l'intero software da internet quindi abbiamo un file di installazione piccolo da 6 mega che andrà a scaricare un software da circa 400 mega se non ricordo male andiamo quindi a vedere com'è impostata l'installazione di ESET security all'inizio possiamo scegliere la lingua quindi impostiamo italiano abbiamo il contratto da accettare verifica eventuali conflitti non ha trovato altri antivirus installati quindi ci permette di proseguire con l'installazione sta scaricando il download è abbastanza veloce è arrivato subito al 100% sta preparando il pacchetto di installazione possiamo vedere che l'installazione è davvero semplicissima ok siamo arrivati all'attivazione a questo punto possiamo o utilizzare una chiave di licenza acquistata quindi se abbiamo già acquistato il prodotto possiamo inserire qui la licenza qui possiamo gestirle quindi se abbiamo una licenza in scadenza se abbiamo più licenze possiamo utilizzarle qui oppure possiamo utilizzare una licenza di prova gratuita quindi abbiamo un periodo di prova o possiamo andarla ad acquistare per il momento saltiamo l'attivazione e ci dice che verrà installato il seguente prodotto asset internet security che è quello che abbiamo scaricato non dimenticare di attivarlo al termine dell'installazione ok clicchiamo su continua qui abbiamo altre scelte possiamo attivare il sistema di feedback asset live grid che ci aiuta a migliorare ancora di più la sicurezza perché si basa su feedback da altri utenti quindi quando viene rilevato sul pc di un altro utente un software pericoloso viene segnalato ad asset che lo va a condividere quindi aggiorna automaticamente i feedback quindi siamo automaticamente protetti personalmente consiglio di attivarlo mentre per quanto riguarda le applicazioni potenzialmente indesiderate qui c'è da fare un discorso lo faccio rapidissimo perché tanto funziona più o meno con tutti i software così le applicazioni potenzialmente indesiderate non sono veri e propri virus sono delle applicazioni che potremmo trovare già preinstallate sul pc che vengono magari installate insieme ad altri software quindi sono dei programmi che potremmo non essere stati noi ad installare e per questo motivo gli antivirus ce li segnalano qui possiamo scegliere noi se attivare il rilevamento quindi se fai a segnalare oppure no generalmente comunque è sempre meglio attivare possiamo inoltre andare a modificare la cartella di installazione in questo caso lascio tranquillamente quella predefinita poi possiamo scegliere se partecipare al programma di miglioramento dell'esperienza degli utenti quindi partecipando andremo ad inviare alcuni dati anonimi ad ESET quindi informazioni sull'utilizzo dell'antivirus io vado a inserire no perché generalmente non partecipo a questi programmi però scegliete voi ovviamente se volete aiutarli a migliorare l'antivirus quindi facendovi arrivare le segnalazioni vediamo l'installazione comunque è abbastanza rapida anche in questo caso sta configurando il dispositivo ok ha già terminato l'installazione considerate anche che io sto testando tutto su una macchina virtuale che generalmente è molto più lenta di una normale quindi considerate sicuramente avrete tempi più rapidi installazione completata correttamente facciamo clic su fine per avviare il sistema intanto chiudiamo temporaneamente il browser perché al momento concentriamoci su ESET Internet Security ok all'avvio ora ci viene di nuovo richiesto di attivare una licenza attiviamo intanto una di prova dobbiamo inserire un indirizzo email questa parte la salto così andiamo più rapidi ok ho completato l'attivazione clicchiamo su fine e possiamo adesso configurare altre opzioni il controllo degli accessi ci permette di proteggere la connessione ad internet quindi possiamo regolare le impostazioni con una password in questo modo non si può modificare le impostazioni di ESET Internet Security senza questa password ad esempio possiamo quindi andare a bloccare un sito web andare a intanto sta avviando il controllo questo poi lo fermiamo possiamo bloccare diversi elementi del sistema e non permettiamo lo sblocco senza la password personalmente generalmente non la utilizzo ma comunque se abbiamo dei bambini in caso o comunque vogliamo limitare la connessione è molto utile l'antifurto anche ci permette di proteggere il computer in caso di furto e di trovarlo facilmente ovviamente è utile per utilizzarlo si deve effettuare un account MyASET ovviamente comunque completamente gratuito anche in questo caso personalmente è una funzione che non utilizzo andiamo quindi a chiuderlo abbiamo la protezione attiva abbiamo anche protezione pagamenti bancari che come detto è una cosa extra che personalmente non utilizzo molto quello che utilizzo maggiormente ovviamente è l'antivirus e il firewall andiamo a vedere quindi graficamente personalmente lo trovo davvero fatto molto bene mi piace molto esteticamente il software abbiamo subito una home che ci dice la protezione attiva qui ovviamente al momento abbiamo una licenza di prova di 30 giorni quindi ci dice di acquistarla possiamo da qui effettuare un controllo del computer possiamo attivare la protezione dei pagamenti bancari e andare a verificare la sicurezza della rete domestica da controllo computer tra l'altro fermo il controllo ovviamente alla prima installazione effettua subito un controllo per verificare che non ci siano virus questo è sicuramente molto buono perché appena lo installiamo andiamo subito a verificare di avere il sistema pulito possiamo ovviamente avviare controlli abbiamo controlli avanzati con diverse personalizzazioni quindi davvero utilissimo tra l'altro questa dovrebbe essere sì la versione 14 hanno aggiunto dei controlli maggiori tipo il database WMI che permette di effettuare dei controlli maggiori un controllo sulla memoria il settore di avvio quindi oltre ai dischi possiamo effettuare diversi controlli possiamo anche scegliere cosa fare dopo il controllo quindi far spegnere il pc riavviarlo eccetera andiamo avanti abbiamo l'aggiornamento quindi da qui possiamo vedere la versione del internet security installata e la versione dei moduli cliccando su ricerca aggiornamenti possiamo aggiornare entrambi su strumenti abbiamo la verifica della rete domestica protezione ai pagamenti bancari e antifurto abbiamo altri strumenti qui molte cose sono abbastanza inutili a mio avviso ci sono davvero tantissimi strumenti asset system sys inspector ci permette di raccogliere informazioni dettagliate sul sistema è utile è un po' avanzato come strumento ma ci permette di avere tante informazioni sul sistema possiamo fare una pulizia del sistema abbiamo lo strumento di pulizia malware sys rescue possiamo inviare i file per l'analisi a asset e qui c'è la quarantena quindi tutti i file bloccati li troviamo qui quindi se un file è stato messo in quarantena e vogliamo ad esempio sbloccarlo ci basterà andare su strumenti altri strumenti quarantena configurazione questa è probabilmente la parte che se siete utenti un po' più avanzati visiterete più spesso perché da qui possiamo andare a configurare tutto il funzionamento della suite di sicurezza abbiamo delle impostazioni di base quindi la protezione computer internet rete e strumenti di protezione possiamo importare ed esportare le impostazioni quindi possiamo ad esempio salvarle e esportarle salvarle poi andarle a importare se reinstalliamo asset internet security oppure se lo installiamo su un altro pc e poi andiamo sulla configurazione avanzata che è davvero personalmente una delle migliori che io abbia mai visto è davvero completa cioè potete configurare nel dettaglio tutti gli aspetti del funzionamento del software qui possiamo ad esempio vedere la protezione apprendimento automatico in tempo reale quindi possiamo scegliere come deve gestire la protezione abbiamo la protezione file system in tempo reale anche qui possiamo scegliere cosa controllare protezione basata sul cloud i controlli malware la protezione l'autoprotezione qui possiamo gestire gli aggiornamenti la protezione di rete da qui personalmente il consiglio che vi do è di modificare la modalità di filtraggio da automatica a interattiva in questo modo andiamo a salvare in questo modo quando un software proverà a collegarsi ad internet vi faccio vedere abbiamo asset internet security che lo blocca e ci chiede cosa fare quindi possiamo scegliere se consentire o negare possiamo scegliere se deve chiedercelo sempre se memorizzare fino all'uscita dell'applicazione quindi in questo momento lo possiamo consentire o negare quando chiudiamo e riapriamo ce lo chiederà nuovamente oppure possiamo creare una regola e in questo caso non ce lo chiederà mai più inoltre se attiviamo i dettagli possiamo avere maggiori informazioni sull'applicazione che sta avviando sulla società che l'ha creata quindi l'azienda alla quale appartiene su quale indirizzo IP si sta collegando e quale porta sta utilizzando in questo caso ho avviato Microsoft Edge se io creo una regola e clicco su consenti Microsoft Edge si andrà a collegare infatti ora mi chiede di nuovo di Microsoft Edge vado a consentire di nuovo e vediamo che ha effettuato la connessione quindi da questo momento Edge potrà connettersi ad internet questo è davvero uno dei migliori firewall che io abbia mai provato perché questa funzionalità per me è assolutamente fondamentale perché sappiamo in anticipo qualsiasi programma stia tentando di collegarsi ad internet quindi nessun programma si potrà mai collegare ad internet senza il nostro permesso sapremo sempre per quali programmi si stanno collegando e perché se lo abbiamo avviato noi oppure no e questo è utile se vogliamo che un programma non si colleghi ad internet quindi possiamo bloccarlo e avere quindi la connessione attiva e bloccare solamente un determinato programma come detto nella configurazione avanzata ci sono davvero tantissime altre impostazioni sul firewall abbiamo la protezione degli attacchi di rete abbiamo la protezione web ed email quindi ad esempio protezione accesso web abbiamo la gestione degli indirizzi e qui possiamo inserire degli indirizzi consentiti quindi andando ad aggiungere possiamo inserire un sito web che non debba essere mai scansionato quindi se siamo sicuri che un sito web è sicuro ma l'antivirus lo blocca lo inseriamo qui e in questo modo verrà ignorato oppure possiamo inserire degli indirizzi bloccati se vogliamo che un sito web non venga aperto lo inseriamo qui e quel sito non potrà essere raggiungibile ok questo è per quanto riguarda l'interfaccia quindi personalmente come detto asset internet security lo consiglio sempre perché a mio avviso è uno dei migliori in assoluto strumenti di sicurezza andiamo a chiudere quindi interfaccia assolutamente ottima vediamo anche i test quindi le valutazioni a asset internet security non vado a comparare con le altre se vi interessa un altro strumento fatemelo sapere nei commenti scrivetemi cosa volete vedere nel prossimo video lo andremo a vedere andiamo su asset internet security in questo caso è stata testata la versione 13.1 e 13.2 ora stiamo utilizzando la 14 che è migliore quindi i punteggi potrebbero essere cambiati comunque abbiamo protezione 6 che è il massimo performance 5.5 significa che rallenta leggermente il sistema neanche più di tanto perché il massimo è 6 comunque abbiamo un ottimo voto usabilità 6 quindi punteggi assolutamente altissimi per asset internet security abbiamo qua punteggi totali quindi abbiamo la protezione contro i malware gli attacchi malware 97% è la media degli altri antivirus e asset è stato testato a luglio è avuto il 100% ad agosto 100% in quest'altro caso su quest'altro test anche la media è 100% è avuto il 100% per le performance rallenta leggermente l'apertura dei siti web abbiamo l'industria la media 13% mentre con asset si rallenta del 21% su pc standard mentre su pc di fascia alta rallenta del 18% il rallentamento del download delle applicazioni rallenta lo standard è 1% questo è 2% il rallentamento del lancio delle applicazioni quindi lo standard è 9% addirittura con asset il lancio delle applicazioni rallenta solo del 5% quindi è ottimo diciamo che i rallentamenti sono principalmente per i download ok mi sta questo è la versione invece che ho sul mio pc quindi non è quella della virtual machine per quanto riguarda l'usabilità abbiamo 0 falsi positivi quindi tutti i virus rilevati sono effettivamente virus non ha trovato file che non erano virus segnalati come tali rilevamenti falsi di software come malware durante lo scan in genere vengono rilevati 15 software dannosi che in realtà non lo sono asset a luglio ne ha rilevati 0 agosto 2 avvisi di comunque diciamo in generale falsi avvisi falsi positivi asset ne ha davvero pochissimi e su questo è uno dei migliori andiamo su av comparatives un altro sito di test e andiamo a vedere gli ultimi report sui test andiamo a vedere la protezione in tempo reale sempre asset abbiamo file compromessi 0,5% quindi vuol dire che sono passati lo 0,5% di virus bloccati il 99,5% un solo file positivo quindi ottima protezione vediamo infatti è tra i più bassi ha un ottimo sistema di protezione andiamo a vedere la protezione da malware il test è di settembre è stato testato sempre la versione 13.2 quindi quella precedente non l'ultima e abbiamo asset abbiamo il rilevamento offline quindi quando non si collega ad internet il 90,3% online il 90,3% sempre di rilevamento e la protezione il 99,98% falsi avvisi solamente 2 quindi un ottimo risultato per asset possiamo vedere che ha bloccato 10.100 malware su dove sono quelli testati 10.102 quindi praticamente ne sono passati solamente ah ok c'era anche scritto qui ne sono passati 2 su 10.102 quindi è davvero un ottimo risultato ce ne sono alcuni che ovviamente hanno fatto meglio ma ci stiamo concentrando su asset ultima cosa andiamo a fare un test di protezione dai malware in realtà avevo salvato 3 siti ma il video è venuto lunghissimo quindi non voglio arrivare a 30-40 minuti di video quindi ci fermiamo andiamo su un solo test e utilizzerò il test di Wicar che ci permette di andare a verificare se l'antivirus blocca effettivamente eventuali tentativi di infezione clicchiamo qui abbiamo qui diversi test quindi possiamo scegliere diversi test ovviamente sono tutti sicuri perché sono simili hanno riprodotto il codice dei virus ma che effettivamente non creino danni il più utilizzato è Eicar virus intanto è stato bloccato immediatamente era stato bloccato in realtà prima da ESET e poi da Microsoft Defender Smart Screen infatti se vediamo abbiamo prima il messaggio di ESET e poi quello di Microsoft quindi comunque se non l'avesse bloccato ESET l'avrebbe bloccato Microsoft poi non li andrò a testare tutti che sono davvero tanti uno molto presente online è il CryptoMiner che si trova diciamo che tra i vari virus presenti è quello un po' più diffuso quindi andiamo a testare JavaScript CryptoMiner allora sto disattivando Smart Screen in questo modo non non interferisce con l'antivirus ovviamente vi consiglio di tenerlo attivo perché è sicuramente utile avere una protezione in più ok senza la Smart Screen non abbiamo più quel messaggio e vediamo che abbiamo ESET che ha bloccato la minaccia Coin Miner applicazione potenzialmente indesiderata accesso bloccato quindi non ci permette di accedere a questa pagina web perché risulta che sia infetta da questo JavaScript utilissimo ovviamente adesso sarà così per tutte le pagine quest'altra è bloccata ci dice semplicemente accesso bloccato non ci dice il motivo abbiamo Flash Hacking Team Leak anche in questo caso abbiamo l'accesso bloccato quindi vediamo che funziona correttamente in questo caso abbiamo un errore su Firefox ma anche se sto utilizzando Edge lo blocca perché ci dice che ha rilevato un Trojan quindi ce lo blocca immediatamente non ci permette di accedere al sito web infatti ci dice accesso bloccato il computer è sicuro perché non è passato nulla dalla pagina l'ha bloccato prima che potesse caricare qualsiasi cosa ritorniamo rapidamente sulla schermata per concludere il video ho deciso di come detto all'inizio ho deciso di iniziare con Asset Internet Security questa serie di video intanto come detto fatemi sapere se la ritenete interessante fatemi sapere se c'è qualche cosa che volete vedere in più o qualcosa in meno quindi se accorciare un po' il video inserire degli elementi rimuoverne altri qualcosa di interessante quindi partiamo da Asset Internet Security perché secondo me è la base quindi è quello che io consiglio fatemi sapere nei commenti quale alternativa volete vedere quindi nei prossimi video cercherò di mostrare prima gli antivirus ai quali siete interessati e poi intanto continuo a darmi notifiche prima quelli a cui siete interessati e poi magari continuerò con altri quindi per questo video è tutto come sempre scrivetemi nei commenti qualsiasi dubbio domanda o suggerimento vi ringrazio per aver seguito il video e ci vediamo al prossimo Ciao 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 Ciao